E ti passo subito la parola Tiziano. Sì, grazie Don Ben perché mi hai aiutato e costretto a leggere in maniera più approfondita di come avrei fatto Fratelli Tutti. Sì, ecco, quindi il titolo che mi è stato affidato è Pensare e generare un mondo aperto e quindi ho cercato di capire perché questo titolo e come avrei potuto, come dire, approfondirlo, riflettere a partire da questo titolo alla luce della mia esperienza, che come avete sentito è un'esperienza che ha a che fare con le politiche di welfare, le risposte ai bisogni umani fondamentali, eccetera. E quindi adesso vi propongo la riflessione che io ho sentito il bisogno di far partire dal numero 14 di Giovanni. E il verbo si fece carne e dimorò fra noi e vedemmo la sua gloria. Ecco, abbiamo sentito Monsignor Palmieri come qualche modo ha scavato all'interno di questo e riportandoci proprio in principio. Il problema che io vedo in questa espressione alla luce di quello che ho letto è che in italiano diciamo si fece carne, in greco invece si sottolinea molto di più l'aspetto del generare e generarsi, e in latino l'aspetto del farsi, del in qualche modo abitare tra noi e vedere la sua gloria. Quindi il punto è, dal mio punto di vista, che quando il pensare genera qualcosa di buono, c'è il logos, il verbo, genera qualcosa di buono, vita nuova, visibile, allora vedremo la sua gloria. Questo ha a che fare con tutta l'azione della Caritas e ha a che fare con tutte le testimonianze di cui c'è enorme necessità per testimoniare la possibilità di una migliore socialità. Da qui mi è venuto un dubbio, ma il titolo vero è pensare e generare un mondo aperto oppure pensare bene è, con l'accento, generare un mondo aperto. E questo è il dilemma che abbiamo sentito anche nelle riflessioni di poco fa, che è stato un dilemma tragico per Caino, eccetera. Quindi è un ecco l'accento quando non ci accontentiamo di prefigurare qualcosa di buono, ma lo facciamo veramente, cioè passiamo dal dire all'essere in relazione e a viverlo veramente. In un mondo che non è aperto come il nostro, invece il contrario dal viverlo bene e veramente può prendere forme tragiche, fatte di confinamento, istituzionalizzazione, isolamento, solitudine, gestione differenziata della sofferenza o, peggio ancora, il sistematico separarsi dalla sofferenza in modi non umani. È avvenuto, e lo sappiamo, per i malati mentali, per le persone con disabilità, con i bambini istituzionalizzati, cioè con tutti gli altri diversi da noi, tra virgolette. E l'enciclica ci dice che questa è stata una gestione materialistica dei problemi umani, anzi lo è ancora materialistica dei problemi umani, con modi conformistici di pensare e di agire. Lo vediamo nella quotidianità in tanti stili di vita che sono a distanza di sicurezza dall'altro. Cioè è come se prima del lockdown e dopo persistessero tanti lockdown esistenziali che penalizzano i più deboli e tutti. Non accade solo oggi, questo è il problema, è proprio la storia sofferta della nostra idea di welfare. È un'idea assistenzialistica che separa stoltamente chi aiuta da chi è aiutato, che non rinuncia ai rapporti di potere anche di fronte alla fragilità e alla debolezza, con l'aiutare senza fraternità e con relazioni sbilanciate, paradossali, che sono senza compassione. In questo modo noi diventiamo incapaci di vedere la nostra miseria nei nostri micro-universi chiusi, infettati dalle separazioni ingiustificate e dalle molte disuguaglianze che rendono ingiusta la nostra socialità. Il problema quindi, ed è chiarissimo in fratelli tutti, è prima di tutto dentro di noi, ci rende incapaci di vedere oltre, fa sembrare tutto normale, inevitabile, scontato, dandoci così la possibilità di giustificare, di giustificarci, quindi di giustificare le molte incapacità di essere fratelli, preferendo confinarci nella presunzione di poter affrontare da soli e non insieme i problemi umani fondamentali. Questo modo di pensare, di costruire le nostre vite, di vivere in tante realtà conflittuali, sembra scontato. Stranamente è scontato, soprattutto se leggiamo un po' indifferita l'evoluzione della scienza, cioè la scienza è il luogo del pensiero migliore, dell'umanità più intelligente, capace di spiegare e di proporre soluzioni, ma vi faccio due esempi. Il primo esempio è che per spiegare come è fatta la Terra, la Luna, questo e quello, la prima cosa che abbiamo visto è stata la forza di gravità e non la forza della relatività, che è stata vista molti, molti anni dopo, cioè la forza moltiplicativa non delle persone, ma dei corpi della fisica in relazione. La scienza classica ha usato il paradigma del potere dominante e non il paradigma del potere relazionale e anche oggi fa molta fatica a farsi strada nelle politiche di welfare, questo pensiero, come dire, chiuso in se stesso. Ma la stessa medicina ha considerato la cura delle malattie come una guerra, come una lotta agli agenti patogeni e solo da vent'anni o poco più si è capito che in certi casi è più importante ancora valorizzare la natura rigenerativa di come siamo fatti, di come il creatore ci ha fatti e quindi che non ha senso il curare senza prendersi cura e il curare senza di noi. Ecco, quindi l'andamento è stato ed è purtroppo ancora attribuire il limite alla parte più debole e attribuire il potere a quella più forte. È il pensiero che enfatizza l'io e non diventa noi. È tragico. Quindi il problema è radicale, si avviene già nella fase del pensiero, ricordate il titolo, della conoscenza, cioè in quella parte dell'azione umana più prossima al capire che si potrebbe fare positivamente ma che invece poi si fa negativamente. Ecco, questa è la premessa con cui io mi sono avvicinato all'enciclica perché Papa Francesco parte da questa umanità, parte da questi problemi ed è un'umanità che riesce molto meglio quando chiude piuttosto che quando apre e questo lo ripete in molti passaggi, adesso io vi citerò una serie di passaggi di una lettura come farebbe uno che si occupa di politiche sociali, sanitarie, di welfare, cioè delle scelte che sono necessarie per affrontare insieme e prendersi cura delle nostre vite e dei bisogni umani fondamentali. Ecco, per me ha significato ripercorrere la grande fatica di far strada alla fraternità sociale, quella che sarebbe in principio, come ha detto Monsignor Palmieri, e che ha radici nell'espressione semplicissima Dio padre, tutti fratelli, è proprio, come dire, perentoria. Però questa enciclica è di quest'anno, quindi vedete quanta fatica, quanta fatica, non è ovviamente la prima volta perché Papa Francesco ci dà anche un esempio di stile letterario, nel senso che tutto quello che dice cerca di metterlo in dialogo con tutto quello che è stato la riflessione su questo tema dal Concilio Vaticano II in poi. Quindi l'enciclica si concentra sul senso sociale dell'esistenza, la dimensione fraterna della spiritualità, la convinzione sull'inalienabile dignità di ogni persona e le motivazioni per amare e accogliere tutti, come abbiamo sentito prima. Questo l'ho preso dal numero 86. Quindi questo dialogo, secondo me, ha per esempio una radice molto bella nella Lumen Gentium numero 40, sono tre righe che vi leggo, è chiaro dunque a tutti che tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità. Da questa santità è promosso anche nella società terrena un tenore di vita più umano, stili di vita ricordate, splendidamente dimostrato nella storia della Chiesa dalla vita di tanti santi. Stranamente dentro la Chiesa i santi sono visti come santi, non sono visti come innovatori sociali di nuovi modi di essere società. Quindi questa lettura credo che potrebbe essere molto utile anche per farci capire come santità e stili di vita sociali sono profondamente collegati. E poi sempre la Lumen Gentium chiude così, ognuno secondo i propri doni e uffici deve senza indugi avanzare la via della fede, via la quale accende la speranza e opera per mezzo della carità. Ci torneremo nelle conclusioni. Questo ognuno però vuol dire tutti, non i più bravi, i più buoni, i più credenti, i più fortunati. Cioè questo approccio è da applicare alla vita di ogni persona, questo è il punto. Infatti poi Papa Francesco nel dialogare e nel riferirsi alla popoloro progressio, nel disegno di Dio lui dice ogni uomo è chiamato uno sviluppo perché ogni vita è vocazione. Fin dalla nascita è dato a tutti in germe un insieme di attitudini e di qualità da far fruttificare. Il loro pieno svolgimento, frutto a un tempo dell'educazione ricevuta dall'ambiente e dello sforzo personale, permetterà a ciascuno di orientarsi verso il destino propostoli dal suo creatore, dotato di intelligenza e di libertà. Egli è responsabile della sua crescita come della sua salvezza. E al 123 Papa Francesco sintetizza così. Dio ci promuove, si aspetta da noi che sviluppiamo le capacità che ci ha dato e ha riempito l'universo di potenzialità. Nei suoi disegni ogni persona è chiamata a promuovere il proprio sviluppo. Quindi risottolinea non solo i buoni e i solidali ma proprio ogni persona. Ecco, su questo punto Papa Francesco insiste ancora di più al 183. L'amore universale è una forza capace di suscitare nuove vie per affrontare i problemi del mondo d'oggi e per rinnovare profondamente dall'interno le strutture, organizzazioni sociali, ordinamenti giuridici. Vediamo dopo come ci suggerisce di farlo. Quindi io commento, è bontà che trasforma e non soltanto aiuta. Ecco, questa è la grande sfida per chi opera sui terreni della solidarietà, che tu devi aiutare ma devi anche trasformare, altrimenti il mondo non si schioda da quello che è e di come è fatto oggi. Ma come si arriva a questa proposta? Ecco, all'86 Papa Francesco ci dice Con la convinzione sull'inalienabile dignità di ogni persona e le motivazioni per amare tutti. Cioè, e l'aveva già detto al numero 4, con un sogno. Il sogno di una società fraterna. Cosa vuol dire società fraterna? Che non si limiti solo alle parole. Che affronta la frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti. E' una società sempre più globalizzata, che ci rende vicini ma non ci rende fratelli. E qui è in dialogo con Benedetto XVI nella Caritas Inveritate. Svuotando di senso o alterando le grandi parole, attenzione, democrazia, libertà, giustizia, unità. Cioè, sono svuotate di senso. Sono sintomi, lo dice il 66, quello del senso, l'aveva detto il 14, di una società malata che volta le spalle al dolore. E a 76 che guarda la persona che soffre senza toccarla. E' fortissima questa espressione e ci dice, ecco, quello che io in parole più astratte avevo detto, relazione di potere tra chi aiuta e chi è aiutato, che produce distanziamento. Di fronte a queste contraddizioni, al 70 troviamo le nostre molteplici maschere, le nostre etichette, i nostri travestimenti, di fronte a queste contraddizioni cadono. Due punti, lo dice chiaro, è l'ora della verità. Cioè, come se ci dicesse, non possiamo più aspettare. Al 17 aveva detto, abbiamo bisogno di costituirci in un noi, che abita la casa comune, cioè, e lo dice al 48, mettersi seduti ad ascoltare l'altro. Siamo in un mondo in cui nessuno ascolta nessuno, tutti devono dire qualcosa. Quindi mettersi seduti ad ascoltare l'altro, caratteristico di un incontro umano. E' un paradigma di atteggiamento accogliente di chi supera il narcisismo e accoglie l'altro. Gli presta attenzione, gli fa spazio nella propria cerchia. Tutto questo trasforma lo stile di vita. Quindi non bisogna inventare chissà che cosa, bisogna reinventare il modo di sentirci in relazione fraterna nella vita di tutti i giorni. E a 66 dice, con i suoi gesti, il buon samaritano ha mostrato che l'esistenza di ciascuno di noi è legata a quelle degli altri. La vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro. E infatti, lo sappiamo, il samaritano non ha aiutato da solo. Ha avuto bisogno dell'oste, ha avuto bisogno, ecco, di mettere a sistema la fraternità. Come fare per ricominciare? A 77 Papa Francesco ci dice, godiamo di uno spazio di corresponsabilità capace di avviare e generare nuovi processi e trasformazioni. Quindi lui lo chiama spazio di corresponsabilità. Non tiene conto della società, come dire, in lockdown esistenziale, delle separazioni, delle contraddizioni. Cioè, lui mette a fuoco quello che è il setting ed è una cosa necessaria, che non è materiale, è uno spazio di corresponsabilità. Quindi è profondamente umana. Non facciamo da soli individualmente. Il samaritano cercò una fitta camera che potesse prendersi cura di quell'uomo, come noi siamo chiamati a invitare e incontrarci in un noi, come ha fatto Don Ben stasera, che sia più forte della somma delle piccole individualità. però c'è un muro da abbattere, molto più robusto del muro di Berlino, perché dura da quasi 300 anni. Quindi la difficile sfida. Qual è la difficile sfida? Libertà, ugualianza e fraternità. Non ve lo dico in francese perché suonerebbe troppo bello. Lo dico in italiano. Qui al 103 Papa Francesco è molto chiaro. La fraternità non è solo il risultato di condizioni di rispetto per le libertà individuali e nemmeno di una certa regolata equità. Ben che queste siano condizioni di possibilità, non bastano perché essa ne derivi come risultato necessario. La fraternità ha qualcosa di positivo da offrire alla libertà e all'ugualianza. Senza fraternità non c'è vera libertà e non c'è vera ugualianza come ben sappiamo nella realtà attuale. Che cosa accade senza la fraternità consapevolmente coltivata? Sono sempre il numero 103. Senza una volontà politica di fraternità tradotta in un'educazione alla fraternità, al dialogo, alla scoperta della reciprocità e del mutuo arricchimento come valori. Succede che la libertà si restringe risultando così piuttosto una condizione di solitudine, di pura autonomia per appartenere a qualcuno o a qualcosa o solo per possedere e godere. Questo non esaudisce affatto la ricchezza della libertà che è orientata soprattutto, e l'abbiamo sentito profondamente prima, all'amore. Al 111, e qui chiude questo paragrafo tra virgolette come l'ho organizzato io, Papa Francesco, vi è infatti oggi la tendenza verso una rivendicazione sempre più ampia di diritti individuali, non diritti sociali, relazionali. Sono tentato di dire individualistici che cela una concezione di persona umana staccata da ogni contesto sociale e antropologico, quasi una monade, sempre più insensibile, sorgente di conflitti e violenze. Cioè, il paradosso è che la chiusura in se stessi alimenta i conflitti e alimenta le violenze. Quindi, quali potrebbero essere pratiche di fraternità generativa basate su diritti non individuali ma diritti sociali, cioè a corrispettivo sociale, quello che è un bene per me diventa bene anche per gli altri. Ecco, qui Papa Francesco dice un cuore aperto al mondo intero, dove? 115, il servizio è in gran parte aver cura della fragilità. 123, Dio ci promuove, si aspetta da noi che sviluppiamo le capacità che ci ha dato, e aggiungo io, perché lo dici tante volte, insieme con gli altri. 127, si tratta di un'altra logica. Se non ci si sforza di entrare in questa logica, le mie parole suoneranno come fantasie, ma, se si accetta il grande principio dei diritti che promanano dal solo fatto di possedere l'inalienabile dignità umana, è possibile accettare la sfida di sognare e pensare ad un'altra umanità. Per questo, lui dice in maniera molto sintetica, 161, i piani assistenziali che fanno fronte ad alcune urgenze si dovrebbero considerare solo come risposte provvisorie. 162, perciò insisto sul fatto che aiutare i poveri con il denaro deve essere sempre un rimedio provvisorio per far fronte a delle emergenze. E poi aggiunge al 187 che è triste vedere che, dietro a presunte opere altruistiche, si riduce l'altro alla passività. Il principio di sussidiarietà è inseparabile dal principio di solidarietà. Servono quindi seminatori di cambiamento. Promotori di un processo sono al 169 in cui convergono milioni di piccole e grandi azioni concatenate in modo creativo come in una poesia. Dovremmo essere poeti sociali che lavorano, propongono, promuovono e liberano. Con essi sarà possibile un sviluppo umano integrale che richiede di superare quell'idea delle politiche sociali concepite come una politica verso i poveri ma mai con i poveri. Senza di loro la democrazia si atrofizza, diventa nominalismo, una formalità, perde rappresentatività, va disincarnandosi perché lascia fuori il popolo nella sua lotta quotidiana per la dignità nella costruzione del suo destino. Ecco, quindi vado verso le conclusioni. Al 180 aggiunge riconoscere ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricercare un'amicizia sociale che includa tutti non sono mere utopie. Qualunque impegno in tale direzione diventa un esercizio alto della carità. Attenzione, perché un individuo può aiutare una persona bisognosa ma quando si unisce ad altri per dare vita a processi sociali di fraternità e di giustizia per tutti entra nel campo della più vasta carità della carità politica e al 186 lo spiega meglio. È carità stare vicino a una persona che soffre ed è pure carità tutto ciò che si fa anche senza avere un contatto diretto con quella persona per modificare le condizioni sociali che provocano la sua sofferenza. 187 Questa carità cuore dello spirito della politica è sempre un amore preferenziale per gli ultimi che sta dietro ogni azione compiuta in loro favore solo con uno sguardo in cui orizzonte sia trasformato dalla carità che lo porta a cogliere la dignità dell'altro dove i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità rispettati nel loro stile proprio e nella loro cultura e pertanto veramente integrati nella società ma aggiungo io senza illudersi. E infatti Papa Francesco al 196 dice d'altra parte è grande nobiltà essere capaci di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da altri con la speranza riposta nella forza segreta del bene che si semina quindi quello che facciamo non aspettiamoci utili di breve periodo ma coltiviamo la terra in vista del medio e lungo periodo e concludo perché era nelle premesse che ve l'avevo anticipato con l'inno della carità alcune annotazioni all'inno della carità rispetto alle cose che abbiamo sentito dove io leggo alcune opzioni strategiche per sviluppare pratiche generative riprendo le frasi se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi la carità sono come un bronzo che risuona o un cemolo che tintina quindi no alla risuonanza inutile delle pratiche autocelebrative del marketing dell'immagine e di tutte quelle azioni che oggi aumentano il rumore e la confusione anche come dire nell'attenzione delle persone di buona volontà riprendo San Paolo se avesse il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare alle montagne ma non avessi la carità non sono nulla quindi no alla conoscenza episodica superficiale dei problemi tutti sanno tutto e quindi non serve ascoltarsi quindi no alla conoscenza episodica superficiale dei problemi senza conoscere le capacità a disposizione di ogni persona che incontriamo ritorno a Paolo se anche distribuissi tutte le mie sostanze ed essi il mio corpo per essere bruciato ma non avessi la carità niente mi giova e Papa Francesco dice che triste vedere che dietro presunte opere altruistiche si riduce l'altro alla passività do quello che ho ma senza condividere quello che abbiamo bellissimo ancora Paolo la carità è paziente è benigna la carità non è invidiosa la carità non si vanta non si gonfia cioè riconosce l'altro come persona e valorizza il bene relazionale tra persone non manca di rispetto non cerca il suo interesse non si addira non tiene conto del male ricevuto cioè rinuncia al potere dell'io e delle sue presunzioni non gode dell'ingiustizia ma si compiace della verità e Papa Francesco dice è l'ora di una verità che nasce dal generare nuovi modi di essere socialità generale tutto scopre tutto crede tutto spera tutto sopporta e Papa Francesco lo spiega anche così anche l'enorme fatica di rinnovare profondamente dall'interno le strutture le organizzazioni sociali gli orientamenti giuridici che tutto spera e tutto sopporta di riuscire a fare questo è il lungo cammino di una costruzione necessaria per mettere al mondo nuovi stili e forme di socialità solidale grazie grazie della pazienza grazie a tutti grazie a tutti